minestrone di verdura e pazzo una cosa asfiziosa, un balo fresco da consumare così eravamo rimaste in una situazione nella quale il lavoro è diventato a tempo e precario spogliato di saldo e figuriamoci garantite, prospettive e percioresi episodico in cui praticamente tutte le regole concernenti il gioco di promozione e licenziamenti sono state ridotte in genere o tendono a cambiare prima che la partita sia terminata è ben difficile che la lealtà e impegno reciproco possano germogliare e mettere radici diversamente dall'epoca della dipendenza reciproca e di lungo periodo non esiste nessun stimolo ad acquisire un forte e serio e ancor meno duraturo interessa la buona riuscita dalla sforza comune e a sviluppare intese destinate comunque a essere transitori il posto di lavoro viene vissuto come un camping nel quale si pianta la tenda per qualche giorno ma che si potrebbe abbandonare in qualsiasi momento qualora i confort offerti siano ritenuti insufficienti o comunque non soddisfacenti anziché come un domicilio comune in cui si è incline a risolvere i problemi e stabilire con pazienza regole di coabitazione accettabili Mark Granovetter ha sostenuto che la nostra è un'epoca di legami deboli mentre la Senet propone che forme labili di associazione sono più utili nei rapporti di lungo periodo la versione liquefatta, fluttuante, frammentata ed regolamentata di modernità può anche non preconizzare il divorzio e la rottura definitiva delle comunicazioni ma certamente inaugura l'avvento del capitalismo leggero e fluttuante caratterizzato dal disimpegno e dall'allentamento dei legami che uniscono capitale e lavoro si potrebbe dire che questa fatidica separazione ricalchi il passaggio dal matrimonio alla convivenza con tutti i relativi atteggiamenti e conseguenze di fondo io vi inclusa la siama della temporaneità e della coabitazione è la possibilità che il rapporto possa rompersi in qualsiasi momento e per qualunque motivo una volta estintesi il bisogno o il desiderio se lo stare insieme era una questione di reciproco accordo e di mutua dipendenza il disimpegno è unilaterale uno dei due partner ha acquisito un'autonomia che forse aveva sempre segretamente desiderato perché prima non aveva mai preso in serie considerazione in una misura mai realmente acquisita dai proprietari assenteisti il capitale si è sbarazzato dalla propria dipendenza e dal lavoro grazie a una nuova libertà di movimento che in passato non poteva neanche sognare riproduzione e crescita del capitale profite, dividendi e soddisfacimento degli azionisti sono diventati tutti i fattori in gran parte indipendenti dalla durata di un qualsiasi tipo di coinvolgimento locale con il lavoro tale indipendenza non è ovviamente assoluta e il capitale non è ancora tanto mobile quanto vorrebbe si sforza di dipendere la gran parte dei calcoli deve ancora fare i conti con considerazione di carattere territoriale, locale e il potere di disturbo dei governi locali può ancora imporre fastidiosa restrizioni alla libertà di movimento del capitale quest'ultimo è tuttavia diventato extraterritoriale leggero e libero in una misura mai vista prima il suo livello di mobilità spaziale già acquisito è quasi sempre sufficiente a ricattare gli organismi politici legati al territorio e imponere la sottomissione alle loro richieste la minaccia anche se non esplicitata è fatta soltanto balenare di rompere i legami locali e spostarsi da qualche altra parte è qualcosa che qualsiasi governo responsabile a salvaguardia propria del proprio elettorato non può non tenere la massima considerazione e a cui non può non tentare di porre riparo subordinando le proprie politiche a tal fine oggi la politica è diventata in misura senza precedenti un tiro alla fune tra la velocità di movimento del capitale e le funzioni a rilento dei poteri locali e sono quasi sempre questi ultimi ad avvertire la sensazione di combattere una guerra impossibile da vincere un governo di tal benessere del proprio elettorato non ha altra speranza che implorare e sedurre anziché costringere il capitale a entrare e una volta entrata trattarlo con tutti i riguardi e ciò si può fare o si può tentare di fare creando condizioni migliori per la libera impresa per riprendere il gergo politico comune nell'epoca del libero commercio il che significa esattare il gioco della politica alle regole della libera impresa dovrà dire porre tutto il potere di regolamentazione di cui il governo dispone al servizio della liberalizzazione usarlo per smantellare e demolire le ancora esistenti leggi e statuti che ostacolano la libera impresa di modo che alla promessa del governo di non utilizzare i propri poteri di regolamentazione per limitare la libertà del capitale diventino credibili e convincenti a stendere da qualsiasi mossa posso dare l'impressione che il territorio politicamente amministrato dal governo sia in ospitale a tal utilizzo aspettativa e a futura iniziativa o lo sia meno dei territori amministrati dei governi adiacenti in pratica tutto ciò significa meno tasse meno o nessuna regola e soprattutto il mercato del lavoro flessibile più in generale significa la popolazione d'aceli incapace e incurante di opporre una resistenza organizzata a qualsiasi decisione il capitale passa a prendere paradossalmente i governi possono sperare di trattenere il capitale solo convincendolo al di là di ogni ragionevole dubbio che esso è libero di andare via anche con stratissimo nessun preavviso avendo scaricato dalla zavara dei macchinari pesanti e dalla ciurma delle fabbriche il capitale vi è già leggero con un semplice bagaglio a mano una cartellina a portadocumenti un computer portatile un telefono cellulare tale ne ha acquisita mobilità ha reso qualsiasi forma di impegno soprattutto di coinvolgimento stabile al contempo superflua e insensata se fatto coinvolgimento limiterebbe infatti il movimento e ostacolarebbe la tanto desiderata competitività annullando a priori la possibilità di maggiore produttività forse valori e consigli di amministrazione di tutto il mondo sono sempre pronte a premiare tutti i passi compiuti nella giusta direzione del disimpegno snellimenti ridimensionamenti scorporamenti e a punire con uguale prontezza qualsiasi notizia di ampliamento dello staff e di impantanamento dell'azienda in costosi progetti a lungo termine l'odinesca capacità di disincatenarsi l'odinesca capacità di disincatenarsi la strategia delle rifugie riscansare e la prontezza e capacità di scappare via in caso di necessità quel cuocervo di nuova politica del disimpegno e non coinvolgimento sono i nuovi indicatori di sagace successo manageriale come Michel Crozier ha osservato molto tempo fa essere liberi da odiosi legami impegno oneroso e dipendenze che arrestano la libertà di manovra è sempre stato inefficiente per dilattare ma di dominio ma l'offerta di una simile arma e la capacità di usarla appaiono oggi distribuite meno equanimemente che mai oggi la velocità di movimento è diventato un fattore basilare forse il fattore principale di stratificazione sociale di gerarchia del dominio e siamo a pagina 174 grazie a tutti